Michele Calandriello, presidente della Torquato Tasso, che ha la cabina di regia di questo progetto di recupero degli orti di sala, lo Stato inizia ad essere abbastanza avanzato e ci sono anche molti giovani che si avvicinano. Finalmente sta decollando perché oltre ai partner che ci collaborano e si prodigano a che questo progetto che l'intendo è di riprendere l'agricoltura partendo da Sala Consilina e poi magari estendendola a tutto il Vallo di Diano che si stanno avvicinando un sacco di giovani, i quali proprio la settimana scorsa si sono dati un appuntamento per costituirsi in gruppo in una cooperativa agricola di modo che formano un soggetto giuridico e noi possiamo effettivamente intrattenere i rapporti e avviare programmi certi. Cosa succederà nel momento in cui sarà costituita questa cooperativa? Non appena costituita la cooperativa ci saranno delle schede di indenti con tutti i proprietari dei terreni, in modo particolare quelli non coltivati sul territorio nostro, invitandoli o ad aderire alla cooperativa quindi come attori, partecipanti come attori oppure magari se vogliono convergere per quanto riguarda l'attività dello sfruttamento del terreno alla cooperativa ovviamente stabilendo degli oneri. Cosa vi aspettate e cosa proponete alle nuove amministrazioni del Vallo di Diano? Stare un po' vicino ai giovani e cercare di trattenere il più possibile i giovani sul territorio perché se annulliamo la parentesi di giovani vuol dire che si annullano le prospettive future e quindi li invitiamo a partecipare anche alle istituzioni, a questo progetto perché noi lo riteniamo uno dei progetti fondamentali in quanto i nostri predecessori hanno creato delle fortune proprio sullo sfruttamento del proprio terreno.